Guardi, loro sono di una cultura chiaramente differente, si renda conto. La cultura non me ne frega un c***o, la cultura questa è una proprietà privata, non è casa loro. Sì, loro però hanno una tradizione di nomadismo per cui ha questo c***o. Vuol dire la tradizione di nomadismo? Io vado ad occupare la villa qua di fianco e dico che la mia cultura mi impone di andare a occupare quella villa lì e ognuno occupa quello che vuole. Com'è andata? No, ma lei ce ne deve uscire di qua, fuori di qua, questa non è sua, deve uscire di qui, via, fuori, fuori, perché non è roba sua. Se ne vuole andare per cortesia, se ne vuole andare per cortesia. Che integrazione vuole creare? Ma che integrazione? Capito dottore, però se ne... Che integrazione? Si rende... No, è fuori di qui, non deve andare fuori. Io sono qui per creare una relazione fra di voi. Ma io non voglio creare una relazione, io voglio che se ne vadano fuori da casa mia. Dobbiamo almeno di conoscere, dobbiamo di fare un... Componessa, qui non c'è niente da conoscere, qua c'è che devono prendere e se ne devono andare. Dottor Giordano, lei è una persona seria. Non è una persona seria, ma... Cioè, fa tutte le sue scenette in televisione, voglio dire adesso... Non faccio le scenette, lei non si permette di dire... Io non faccio scenette, io lavoro come lavora lei, questa è casa mia, da casa mia le persone devono andare via. Grazie. 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 Grazie.